Daniele Romualdi per Celendo Channel qui ad Agropoli in occasione delle selezioni per la terza edizione della Corrida. Anche quest'anno grazie al contributo del Comune di Agropoli e la collaborazione del Forum dei Giovanni di Agropoli e l'Associazione Il Carro, noi i ragazzi della Proloco riproponiamo quella che è la terza edizione della Corrida di Agropoli ormai un evento ripreso a pieni voti e rientrante ovviamente nella programmazione del Carnevale di Agropoli questa sorta di arena dove sarà possibile affrontarsi in varie esibizioni più divertenti tra questi talenti e dilettanti allo sbaraglio. Tantissime novità quest'anno, come dicevi lunedì 8 febbraio alle ore 19.30 al Palazzetto dello Sport di Concilio. Tra i giurati avremo l'onore all'attore comico Massimo Ceccherini e il cantante Antonio Voria che avremo nella nostra giuria tecnica. Tantissime altre novità, oggi siamo qui per le selezioni vedremo questi talenti che vorranno appunto esibirsi in questo vasto pubblico della Corrida vi aspettiamo, il divertimento è assicurato. Quindi una serata ricca di emozioni sarà quella dell'8 febbraio perché già i nomi degli ospiti però la simpatia, l'impegno che ogni anno voi ragazzi ci mettete. Sì, ovviamente il popolo agropolese non possiamo dire risponde ormai benissimo a questo evento. Noi siamo felicissimi di riproporla grazie ovviamente alle collaborazioni che dicevo prima speriamo che continuerà questa tradizione. Oltre ad invitarvi a venire lunedì 8 febbraio ad Agropoli per la Corrida vi invito anche a seguire la diretta che ci sarà di Cilento Channel al palazzetto, quindi alla Corrida, 6-3-6 ed il Digitale Terrestre. Queste anzioni mi ricordano che aveva partecipato alla prima Corrida. Grazie a tutti. Grazie a tutti.